Teatro Toselli di Cuneo, uno degli ultimi appuntamenti dei 70 anni di Coldiretti, un momento celebrativo, presidente, ma anche un momento dove guardare avanti alle prospettive future. Tante cose sono state fatte, molte restano da fare. Sì, noi siamo proprio partiti da questo settantennio per discutere in questa giornata, in questa mattinata, rispetto a quello che sarà i 70 anni futuri di Coldiretti Cuneo e i 70 anni futuri della nostra agricoltura. Naturalmente noi sappiamo, ma non solo noi, anche la società sa benissimo che come agricoltura possiamo essere il motore per attivare l'economia cuneese e non solo. È una grande responsabilità, ma anche un grande stimolo per il futuro. Tutto questo per guardare anche oggi con la presenza virtuale del Ministro, che è trattenuto per altri impegni, però riceverà un documento da parte tua, da parte della Coldiretti di Cuneo, dove si chiederà sostanzialmente che cosa. Sicuramente stiamo chiedendo al Governo e chiederemo al Governo di sostenere questa nostra idea, questa nostra volontà di ripartire, di far ripartire non solo l'agricoltura, ma di far ripartire l'economia in generale. Molte cose sono già state fatte anche a livello di legge di stabilità dal Governo, ma sicuramente un'ulteriore attenzione da parte del Governo, da parte del Ministero, verso questa grande centralità che deve avere l'agricoltura, questo sicuramente sarà una questione che porteremo avanti. Riforma di AGEA, guardare avanti oltre il 2020 con la PAC, ma anche portare a termine tutto il percorso di etichettatura, iniziato positivamente con l'ATTE. Questi saranno gli argomenti futuri? Sì, sicuramente di battaglie ne abbiamo già vinte, già portate a casa. Quella che è sull'etichettatura obbligatoria del LAT, del settore dell'attero chieseario, per noi è stato veramente un esperimento, ma anche un lancio, per far capire che partendo da questo, partendo da un'azione sindacale forte, si possono portare dei risultati alle nostre aziende. I risultati si ottengono solo facendo aumentare quello che è il reddito delle nostre aziende e quello che è la valorizzazione dei nostri prodotti. Lo abbiamo visto con il LAT, ma lo vedremo sicuramente anche con gli altri settori, dove punteremo sulla battaglia della trasparenza, della tracciabilità di un territorio che deve essere riconosciuto per le eccellenze che ha.